Buon inizio di settimana a tutti amici di Fiorentina 1 con i 101 secondi viola. E che dire, ci svegliamo con la testa ieri sera, ci svegliamo in testa alla classifica, ci svegliamo con 15 punti in 6 partite. Qualcosa di eccezionale, nessuno l'avrebbe immaginato. La Fiorentina ieri ha schiantato l'Inter, l'ha schiantata in 17-18 minuti, la partita era finita. E allora in un campionato così strano, noi che abbiamo già parlato di Scudetto la settimana passata, oggi dobbiamo ribadire il concetto. Dobbiamo ribadire il fatto che questa Fiorentina, al di là di tutto, al di là di un mercato che evidentemente non ha convinto i più, ha trovato una propria quadratura. È un momento dove Sousa sta facendo la differenza, la sta facendo tra l'altro nel modo migliore possibile, sorprendendo sempre e comunque gli avversari. La sta facendo grazie ad un attaccante che oltre a giocare benissimo sta trovando anche i gol e a questo punto diventa una prima punta eccezionale. La sta trovando grazie ad un pubblico che non ha mai lasciato sola la propria squadra. La sta trovando in un campionato dove le altre squadre, le altre big stanno tentennando. La Roma vince una partita, poi ne perde un'altra. Il Milan vince e poi perde. Lo stesso Napoli adesso forse sta trovando una quadratura in casa, ma in trasferta fa molta fatica. E allora forse parlare di Scudetto è esagerato, però tornare a parlare di Champions League, tornare a parlare di una Ferentina che possa inserirsi nell'otto delle prime tre in classifica non è più un sogno. Continuiamo a giocare gara dopo gara, partita dopo partita, perché può essere un anno di grandi sorprese. Può essere un anno dove se a Natale arrivi in una posizione buona, allora lì davvero la proprietà della Valle con un ultimo piccolo sforzo potrebbero concedersi. Un'annata straordinaria. A domani con i 101 secondi Viola di Fiorentina 1.